Mister Valori, deluso del risultato della gara? Ma no, deluso sapevamo che a Perugia ci stava di perdere, questo è fuori dubbio. Però è un rammarico magari di... avrei voluto affrontare questa partita con tutto l'organico effettivo perché oggi eravamo senza centrocampo, pur facendo molto bene, dico uno su tutti, Bernardino, un ragazzo nel 90 con due esterni di centrocampo adattati a fare le mezzali, uomini come De Rosa e Cersosi, ma non li possiamo e non li può regalare nessuno. Oltretutto ho dovuto fare anche un cambio forzato dopo mezz'ora del primo tempo e devo dire che pensavo anche di tenere meno di quello che abbiamo tenuto.